Un muro di contenimento crollato, degrado e abbandono che hanno di fatto impedito la fruizione di uno dei tratti di spiaggia più belli della zona orientale di Salerno. A distanza di anni però è finalmente arrivata la svolta per il tratto di litorale nel quartiere Mercatello, sopra luogo congiunto degli amministratori con il via libera al cantiere. Era indecoroso, siamo corsi ai ripari, ripeto con i tempi, ahimè, che si sono dettati dalle normative, dalle leggi e dalle procedure e finalmente partiamo con quest'opera di messi in pristino per 300 mila euro circa. Finalmente possiamo dire che abbiamo aperto il cantiere e quindi finalmente di nuovo fra un anno o meno di un anno sarà tutto concluso, ripristinata la zona, restituita l'accesso ai cittadini alla spiaggia e anche restituita il decoro. È solo uno dei primi interventi, dei tanti interventi che intendiamo fare per quanto riguarda la parte orientale di Salerno. Ho visto stamattina cittadini molto arrabbiati, hanno ragione, sono dieci anni, purtroppo voglio dire, si è portato un po' troppo per le lunghe, andava fatto prima. Non solo il litorale, l'obiettivo è mettere in campo un progetto complessivo di riqualificazione per la zona orientale di Salerno, come richiedono a gran voce da tempo i residenti. C'è una situazione di degrado generale, indirettamente questo si trascina in un concetto di pericolo più o meno differenziato, quindi vediamo un pochino di studiare.